Musica Variante inglese limitati da domani gli spostamenti da e per la provincia di Ancona L'annuncio del governatore Acquaroli dopo il confronto con l'Istituto Superiore di Sanità Prenderà il via nel mese di marzo la vaccinazione al personale delle scuole e alle forze di polizia Coinvolti anche i vigili del fuoco, protezione civile, questure, prefetture, l'AstraZeneca fino ai 55 anni e poi Pfizer-BioNTech Fano TV nelle corsie del reparto di gastroenterologia dell'ospedale Santa Croce Il direttore Scarcelli lancia un appello, troppe visite rimandate, si rischia di non prendere in tempo le patologie Questo è un luogo sicuro Furti e violazione delle norme anticontagio La polizia di Fanno arresta due persone, ne denuncia quattro ed eleva dieci sanzioni amministrative Espulsi anche due stranieri Aperti cinque alberghi su 40, un calo di fatturato del 50% Questo è in ginocchio, settore del turismo a Pesero, dove gli imprenditori chiedono ristori e un nuovo piano di ripascimento delle spiagge Il rogo del pupo chiuderà stasera la settimana grassa del Carnevale di Fano Dalle ore 21 su Fano TV, l'inferno dantesco in uno spettacolo futuristico tra danza, teatro, musica e intelligenza artificiale Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia È ufficiale, Francesco Acquaroli ha firmato l'ordinanza Dopo il confronto con l'Istituto Superiore di Sanità e d'accordo con il Ministero della Salute Annunciato il Presidente su Facebook Da domani mattina fino alle ore 8, fino alla mezzanotte di sabato 20 febbraio Sono limitati gli spostamenti da e per la provincia di Ancona Salvo quelli per comprovate esigenze lavorative, per motivi di salute e di studio E per il rientro nella propria residenza, domicilio o abitazione Per spostarsi, ha precisato il Governatore, sarà necessaria l'autocertificazione Un provvedimento precauzionale necessario per mitigare i flussi dei cittadini E monitorare l'andamento del contagio Soprattutto il riferimento alla variante inglese sul territorio anconetano e nel resto della Regione In aumento anche il tasso dei positivi e quello di occupazione dei posti letto in aria intensiva La situazione epidemiologica è sotto costante monitoraggio Ha concluso Acquaroli, vi terrò aggiornati se dovessero esserci delle novità E intanto nelle ultime 24 ore sono morte 15 persone nelle Marche Tra le vittime anche un uomo di 89 anni è residente a Fano I nuovi positivi sono 277 La provincia più colpita rimane quella di Ancona con 87 casi Seguita da Pesor Urbino con 65 Il lieve calo anche i ricoveri negli ospedali della Regione 80 i pazienti in terapia intensiva e 155 quelli in semi-intensiva Nelle Marche prosegue nel frattempo il piano vaccinazioni Dopo gli over 80 sarà la volta di altre categorie che sono state elencate Dall'assessore regionale alla Sanità Filippo Saltamartini I particolari nel servizio di Letizia Marchionni Ovvieremo la vaccinazione del personale della scuola Inizieremo il primo marzo Il personale delle forze di polizia, armate, protezione civile, magistrature, prefetture e questure Il 2 con i vaccini AstraZeneca Prosegue il piano vaccinazioni nelle Marche Dopo gli over 80 si continuerà con le categorie elencate oggi da Filippo Saltamartini Assessore alla Sanità nel corso del Consiglio regionale Per il personale del comparto dei servizi fondamentali Ha spiegato Saltamartini È prevista la somministrazione del vaccino AstraZeneca Verrà utilizzato per le persone fino a 55 anni Mentre agli over 55 verrà iniettato il vaccino Pfizer Finora questo processo di vaccinazione Ha riguardato il 90% delle persone che sono in RSA Abbiamo messo in programma il completamento della vaccinazione in questa settimana Completeremo sempre in questa settimana Tutto il personale della sanità Tenendo conto che i vaccini sono arrivati stamane 12.800 Pfizer Fissata per il 20 febbraio invece la partenza delle somministrazioni del vaccino Pfizer Agli oltre 133.000 ultraottantenni marchigiani Che hanno la possibilità di recarsi o di essere accompagnati ai punti di vaccinazione scelti Le prenotazioni online e per telefono partite lo scorso 12 febbraio Stanno andando molto bene Sono giunte a circa 62.000 Se tutti si prenoteranno completeremo la vaccinazione degli over 80 in 21 giorni Ha spiegato Saltamartini Dopo gli ultraottantenni in grado di deambulare Sarà poi creata una piattaforma assieme a poste italiane Ed un numero di telefono Dove potranno registrarsi anche gli over 80 allettati invalidi o che non deambulano E che quindi dovranno essere vaccinati a domicilio Il piano vaccinale, ha poi continuato Saltamartini, proseguirà con la somministrazione del vaccino Alle categorie più fragili con patologie Domani ci sarà il tavolo con i medici di famiglia per rinnovare l'accordo Che era stato avviato a livello nazionale Poi interrotto per la crisi dell'esecutivo Conte E domani continuiamo a chiudere l'accordo In modo tale che anche i medici di famiglia possano aiutarci Nella vaccinazione domiciliare delle persone che non possono accedere ai punti di vaccinazione E anche per quanto riguarda un aiuto dei medici di famiglia potrà essere utile negli stessi punti di vaccinazione Tutta la struttura dei distretti, i medici USCA e anche le ADI L'assistenza domiciliare integrata contribuirà a completare il quadro delle vaccinazioni Che riguardano appunto queste persone che se dovesse essere colpite da Covid-19 rischierebbero molto Quindi invito tutti i figli, i nipoti, gli amici ad accompagnare nei punti di vaccinazione queste persone È un gesto di grande solidarietà, un bellissimo regalo accompagnare queste persone che rischiano appunto per la somministrazione di questo vaccino E continua il viaggio di Fano TV nelle corsie degli ospedali dell'azienda ospedaliera Marche Nord Oggi siamo stati nel reparto di gastroenterologia della Santa Croce per intervistare gli operatori sanitari e il direttore Scarcelli Che ha lanciato un appello alla cittadinanza Non rimandate le visite, è importante prendere in tempo le patologie Mi sento di raccomandare ai pazienti che hanno bisogno di un ricovero gastroenterologico urgente Di recarsi in pronto soccorso e di essere estremamente tranquilli Perché il controllo dell'infezione per fortuna è possibile Visite rinviate e paura del contagio Gli effetti della pandemia di Covid-19 hanno provocato ricadute anche sulla cura di diverse patologie Esami rimandati, rallentamenti negli interventi e una drastica riduzione della prevenzione Durante il lockdown e nelle fasi successive dell'emergenza sanitaria Si sono tradotte in una netta diminuzione di nuove diagnosi Con il rischio conseguente di non prendere in tempo una situazione che di per sé potrebbe essere già critica Oggi un appello arriva dal direttore dell'unità operativa complessa di gastroenterologia ed endoscopia digestiva Di Marche Nord, Antonella Scarcelli Di fronte alle condizioni che necessitano di ospedalizzazione Devono assolutamente recarsi nei tempi più rapidi possibili all'ospedale Perché la nostra unità operativa è considerata Covid-free Il protocollo aziendale infatti prevede che anche durante l'adegenza ogni tre giorni I pazienti ripetano il tampone per un controllo continuo Assicurate inoltre la massima attenzione nell'utilizzo dei dispositivi di protezione Nel distanziamento interpersonale di disposizione dei degenti stessi all'interno del reparto E di tutte le altre norme anticontagio L'unità operativa complessa comprende sia i ricoveri, il regime ordinario Che quelli in dei hospital, più l'attività endoscopica Noi facciamo circa 3.600 visite l'anno per visite gastroenterologiche di primo livello e di secondo livello Faccio riferimento a quelle dedicate a patologie specifiche Facciamo circa 10.000 esami l'anno di tipo endoscopico Facciamo circa 1.500 esami terapeutici Vi ricordo che noi siamo un centro provinciale per quanto riguarda l'emergenza e urgenza Quindi vengono diretti a noi i pazienti anche di altri ospedali Pensiamo quelli di Urbino Che hanno delle patologie emorragiche acute Dunque un punto di riferimento importante sia a livello locale Che per alcune attività a livello nazionale Ad esempio Emanuella D'Alba di Modena Ha deciso di recarsi in questo nosocomio E di affidarsi alle cure dei sanitari di Marche Nord Ho morbo di Crohn e siccome 11 anni fa me l'aveva diagnosticato appunto la dottoressa Scarcelli Ho preferito venire a farmi seguire qua da lei Quindi ha seguito la professionalità, la competenza? Sicuramente Si è trovata bene anche con l'equip, con il personale? Tutti, tutti Non posso dire niente di brutto, di non buono, di nessuno Partendo dalle osse, le infermiere, tutti Orgogliosa della squadra di specialisti la dottoressa Scarcelli Si tratta, ci ha raccontato il direttore, di giovani motivati, preparati con un bagaglio culturale davvero notevole Abbiamo dei medici che sono prevalentemente dedicati al reparto Considerate che in reparto noi abbiamo una media di 850-900 ricoveri annui Trattiamo patologie di secondo di vele Cioè patologie ovviamente non alla gastroenterite ma parliamo di patologie più importanti E abbiamo anche un'equip dedicata al gruppo delle malattie infiammatorie croniche intestinali I nostri numeri nell'ambito nazionale ci pongono come centro non solo regionale ma interregionale importante Grazie mille Non può essere risultato positivo dieci giorni fa al coronavirus Le sue condizioni comunque sono buone e al momento non ha problemi respiratori E adesso la cronaca Due arresti e quattro denunce in stato di libertà Il risultato dei controlli effettuati dagli agenti del commissariato di Fano Nell'ambito della prevenzione dei furti e di altre attività Multate anche dieci persone per il mancato rispetto delle norme anticontagio Giorni impegnativi per la Polizia di Stato che nel corso di controlli per prevenire i furti Sia presso le abitazioni private che negli esercizi commerciali di Fano Ha effettuato due arresti e quattro denunce in stato di libertà Il primo ad essere tratto in arresto dagli agenti del commissariato diretti da Stefano Seretti È stato un uomo con doppia cittadinanza Moldava e Rumena Rintracciato nel corso di alcuni controlli svolti presso la stazione ferroviaria L'uomo è risultato destinatario ad un mandato d'arresto internazionale Emesso dalle autorità moldave per aver commesso vari furti in quella nazione Un connazionale dell'uomo poi è stato fermato e arrestato dagli agenti in quanto è emerso a suo carico Un ordine di esecuzione e di espiazione di pena detentiva di quattro anni per aver commesso reati tributari Le verifiche degli agenti hanno riguardato anche i siti commerciali di Bellocchi di Fano Ed hanno permesso di individuare nel parcheggio del centro commerciale Fano Center Tra individui, due donne ed un uomo che si aggiravano con fare sospetto all'interno del centro commerciale Tra le auto in sosta, guardando all'interno degli abitacoli Una volta individuata la vettura dei tre, una BMW all'interno della quale le aspettava il conducente I poliziotti sono intervenuti per procedere al controllo Ma l'auto è partita a tutta velocità nel tentativo di scappare Rischiando di investire un poliziotto e speronando su un fianco la vettura della polizia Subito è scattato l'inseguimento che si è concluso alla rampa di accesso all'autostrada Dove i quattro, due uomini e due donne di origine rumena, già noti alle forze di polizia Sono stati fermati, denunciati in stato di libertà e sanzionati per il mancato rispetto delle norme anti-covid Al conducente è stata poi ritirata la patente per le infrazioni al codice della strada commesse durante il tentativo di fuga, mentre l'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo I controlli degli agenti del commissariato di Fano hanno riguardato anche gli esercizi pubblici del centro storico luogo in cui i poliziotti hanno rintracciato un cittadino del Bangladesh e un uomo di origini albanesi poi risultati irregolari sul territorio nazionale e quindi sottoposti alla procedura di espulsione L'albanese che aveva precedenti a carico è stato accompagnato alla frontiera Infine, sempre nel centro storico fanese, con la collaborazione della polizia locale sono state elevate sei sanzioni in via Ugolino De Pili per il mancato rispetto delle prescrizioni anti-covid del distanziamento davanti ad alcuni esercizi Bilancio negativo per il turismo a Pesaro Aperti soltanto 5 alberghi su 40 Gli operatori plaudono il comune per la riduzione della Tari ma chiedono ristori così come un nuovo piano di ripascimento delle spiagge Il servizio è stato curato da Angelica Panzieri Ristori anche per gli alberghi Lo chiede il presidente degli albergatori pesaresi Fabrizio Oliva dopo che il covid ha messo letteralmente in ginocchio anche il settore del turismo ed ha fatto chiudere gli hotel Ad oggi nella città di Pesaro soltanto 5 strutture ricettive su 40 restano aperte e il 2020 segna un calo del fatturato superiore al 50% La situazione ad oggi rimane ancora grave perché oltre alle perdite che abbiamo avuto a fine anno e inizio anno perché ovviamente tutti gli eventi di Capodanno compreso il Capodanno sono assaltati ancora oggi molti alberghi annuali sono chiusi e ovviamente gli stagionali credo che non possono aprire in prospettiva nemmeno per i prossimi eventi di Pasqua per cui pur avendo il codice a teco non chiuso e senza limitazioni di fatto il mercato ha imposto agli alberghi di rimanere chiusi Le perdite sono abbastanza consistenti per gli annuali per cui c'è una situazione veramente difficile quindi anche quelli aperti lavorano con poche camere Noi chiediamo comunque anche tramite la nostra associazione alla federal alberghi a livello nazionale sicuramente un ristoro e quindi torno a ripetere siamo stati fortemente penalizzati anche per il Natale dove con i ristori numero 4 gli alberghi non sono stati contemplati il problema non c'è solo per la montagna c'è anche per la riviera alla regione chiediamo che intervenga comunque con un altro ristoro per quello che riguarda gli alberghi devo dire che il nostro sindaco è stato molto lungimirante e ha stanziato 500 mila euro per abbattere la Tari del 50% E tra gli hotel rimasti aperti a Pesaro ci sono anche quelli del conte Alessandro Marcucci Pinoli che nello scorso fine settimana per San Valentino ha potuto riempire quasi tutte le camere E' andata benissimo perché l'idea era buona infatti me l'hanno anche copiata in varie parti d'Italia e poi avevo dei prezzi molto molto bassi vantaggiosi perché lo faccio solo per riuscire a tenere aperto non dover chiudere e quindi mandare via tutti i miei personali gli stranti d'albergo possono dare da mangiare ai clienti dell'albergo quindi chi dorme qui può mangiare per cui mi sono inventato la vacanza a Pesaro per i pesalesi quindi i pesalesi prendendo la camera potevano mangiare e così anche durante la settimana ho avuto sempre un buon lavoro Via Libera della Giunta Comunale di Pesaro per il bonus Tari il contributo di mezzo milione di euro per le attività commerciali che hanno subito maggiormente le restrizioni del Covid-19 nello specifico si tratta di un contributo che va dal 40 al 50% sulla tassa di rifiuti versata lo scorso anno, nel 2020 le domande potranno essere presentate dal 20 febbraio al 5 marzo tutti i dettagli li troverete nel nostro sito occhioallanotizia.it Invece per i cittadini dell'ambito sociale 6 da domani fino alle ore 13 di martedì 23 febbraio è possibile presentare la domanda per i buoni spesa accedendo al sito ambitofano.it ma anche sui siti dei relativi comuni a partire sono Fratterosa, Mondavio, Mondolfo, Monteporzio, Pergola e San Lorenzo in campo mentre Fano, San Costanzo e Terre Roveresche usciranno a marzo anche in questo caso nel nostro sito troverete i requisiti richiesti e gli importi che variano in base ai redditi e al numero di componenti del nucleo familiare Sarà come da tradizione il rogo del pupo a chiudere la settimana grassa del Carnevale di Fano questa sera su Fano TV l'ultimo appuntamento tra danze, teatro, musica e intelligenza artificiale in servizio di Filippo Pucci atto finale questa sera in occasione dei festeggiamenti del Carnevale oggi, martedì grasso, la tradizione fanese vuole che si dia fuoco al pupo una sorta di rito che ha come obiettivo quello di spazzare via tutti i peccati commessi durante il periodo carnacialesco e dando così il via al tempo di Quaresima Appuntamento dunque alle ore 21 su Fano TV davanti agli hangar della fabbrica del Carnevale Dante raccontato dagli algoritmi di intelligenza artificiale il computer ha prodotto un testo delle immagini che appunto vi mostreremo come appunto il computer riscrive l'inferno di Dante nel contempo una danzatrice, Celeste Sambuchi, danzerà con un drone quindi l'umano e la macchina che danzano insieme poi torneremo indietro di 700 anni dove Carlo Simoni ci leggerà parte del primo canto dell'inferno e quindi ci sarà questo paragone tra il moderno e quello che è stato scritto nel 1300 da Dante poi ci sarà la riconsegna da parte del sindaco del Carnevale al sindaco Massimo Seri di tutti i poteri e poi il grande rogo del pupo che non poteva mancare anch'esso spettacolare, enorme, bellissimo quindi vi aspettiamo questa sera alle ore 21 per l'ultimo giorno di Carnevale con il gran finale di questi sei appuntamenti Dante Alighieri dovrà consegnare dopo una settimana il comando della città tutti i poteri e la fascia tricolore al sindaco di Fano ma sarà contento oppure dispiaciuto? è un piacere e un dispiacere nello stesso tempo perché come sapete bene mi ha nominato sindaco di questa festa perché sono il più grande poeta e il più dotato di tutti di testa però devo dire che adesso insomma la carretta io la ridò molto volentieri al sindaco perché veramente non se ne può più poi venire dal mio mondo e ritrovarmi con queste cose stranissime le stranissime, i film, i cellulari, i mascherati, la mascherina, la pandemia preferisco guarda le pene dell'inferno forse sono meglio ma il lavoro ancora continua per la grande macchina del Carnevale infatti alla fine del mese i maestri carristi dovranno consegnare i propri bozzetti mentre l'ente carnevalesca sta ancora decidendo come festeggiare nel miglior modo possibile la stagione ormai persa durante la prossima estate quest'estate sicuramente i grandi carri li vedrete esposti in città e in base a quello che si potrà fare li utilizzeremo li utilizzeremo da fermi, li utilizzeremo in sfilata questo lo vedremo con l'andare della pandemia e allora subito dopo di noi le previsioni del tempo e poi questo ultimo appuntamento della settimana grassa del Carnevale di Fano seguirà una puntata di Oltre i confini che inaugura la nuova stagione del programma dedicato alla presentazione del libro di Enrico Tosi intitolato il Carnevale di Fano, storia e cronaca dal 1347 al 2017 grazie per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci a domani grazie per aver guardato il nostro canale